In Molise dopo quasi due mesi senza vittime c'è un nuovo decesso legato al Covid. L'ultimo paziente che aveva perso la vita dopo aver contratto il virus risale al primo luglio scorso. Ieri invece non ce l'ha fatta un uomo di Campobasso, 74 anni, era stato ricoverato poco prima di Ferragosto, aveva altre patologie, non era vaccinato. È la 493esima vittima in regione da quando è scoppiata la pandemia. Per quanto riguarda il consueto bilancio settimanale del lunedì, sul fronte dei contagi la situazione resta praticamente invariata. I nuovi positivi al Covid negli ultimi sette giorni sono stati 68 contro i 70 della settimana precedente, con il tasso di positività che resta stabile al 3%. Sale però il numero degli attualmente positivi che passa da 147 di lunedì scorso all'attuale 195. Stabile la situazione del fronte ricoveri, sono sette i pazienti al cardarelli di Campobasso, uno di loro resta in terapia intensiva.